Allora, perché siamo qua stamattina? Siamo qui per parlare di 60.000 lavoratori, un po' ai confini dell'impero, però altrettanto importanti. Parliamo di lavoratori frontalieri, per cui quei lavoratori che tutte le mattine vanno nella Confederazione Elvetica, parliamo di, nelle province di Sondrio, Como, Varese e Verbano Cuso-Ossola, e tutti i giorni vargano la frontiera, sono più di 60.000, sono 62.800 erotti, e vanno in canton Ticino. Allora, perché parliamo di questi? Per loro cambierà drasticamente il loro mondo. Hanno sempre, questi lavoratori avevano una condizione che era dettata da un rapporto che era stato fatto fra il nostro Paese, la Confederazione Elvetica, del 74, in cui erano regolati tutte le questioni dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e via dicendo. Queste condizioni cambiano, cambieranno, con il nuovo accordo fatto dal governo Renzi, che in virtù del grande accordo internazionale, così insomma sbandierato, della questione delle banche svizzere, di togliere finalmente, direi io, le banche svizzere dalla black list, su questioni anche, altre questioni fiscali, vi dicendo, sul fatto di far emergere i capitali detenuti nelle banche svizzere in maniera, tra virgolette, non dichiarata da parte di cittadini italiani, sulla scorta di questo accordo internazionale, è stato compromesso l'accordo sui lavoratori frontalieri. Cioè, siamo passati nel trattare un accordo esclusivamente economico e abbiamo compromesso un accordo che parla di persone e di territori. Cos'è la gravità del problema? Molto semplice. I lavoratori frontalieri, col nuovo accordo, pagheranno più tasse, pagheranno più tasse, e la grande preoccupazione è che i territori di confine, cioè le province interessate, i comuni interessati, comuni che ricevevano ogni anno i famosi ristorni del governo della Confederazione Elvetica, che andava appunto a questi comuni, non abbiamo più la certezza che questi soldi torneranno ai comuni. Perché? Perché prima questi soldi venivano garantiti dalla Confederazione Elvetica per il fatto che i lavoratori frontalieri erano tassati alla fonte, cioè la loro busta paga era una busta paga al netto, e la Confederazione Elvetica si preoccupava di ristornare ai nostri comuni la quota calcolata in base all'accordo appunto del 74 dei nostri comuni. Oggi, col nuovo accordo, i frontalieri saranno tassati per il 70% dalla Confederazione Elvetica e per il 30% dal nostro Paese. E all'interno di questo 30% dovranno esserci i ristorni. La cosa preoccupante è che, non è ben chiaro, il sistema di tassazione, e questo 30% di tassazione che verrà fatto ai frontalieri nel nostro Paese, come verrà modulato negli anni, perché la roadmap che è stata fatta dal governo Renzi con il governo della Confederazione Elvetica, sulla quale si è scritto sommariamente quale dovrebbe essere tutto il passaggio graduale, diceva che saremmo andati a regime nel corso degli anni a una tassazione in vigore nel nostro Paese per questo 30%. Per cui è molto semplice, non siamo solo noi a dirlo, se non sono accorti alla buon ora anche i sindacati, che all'inizio applaudivano a questo accordo come qualcosa di straordinario, che pagheranno più tasse i nostri lavoratori e i comuni non avranno i ristorni. Per cui, sull'altare del compromesso internazionale, cioè dove si parla esclusivamente di, giustamente anche legittimamente da parte di un governo, di accordi internazionali, di denari, sulla merce di scambio, sono stati i lavoratori e i territori di confine. Per cui questa è la nostra preoccupazione. Come Lega Nord è stata presentata, sia Camera che Senato, una mozione che cerca di sensibilizzare il governo per migliorare questa situazione. In più, si attende che il governo porti in aula questo accordo e su questo accordo io credo che ragionevolmente tutte le forze politiche si devono adoperare per sanare questo grosso problema che abbiamo di fronte. Soprattutto quelli del PI, che abiti la Varese. Esatto, no? Marantelli, no? Che l'ho sentito ieri nel suo intervento. Ma sui territori c'è grande preoccupazione, da parte degli amministratori, da parte dei lavoratori. Per cui la politica si deve adoperare per cercare di sanare questo problema. Ecco, io mi fermerei qui, lascerei la parola anche ai miei colleghi. Come c'è magari dal collega Molteni e poi se ci sono qualche domanda. Io faccio unicamente una battuta perché c'è grande preoccupazione, c'è un rischio evidente, cioè che sulla pelle e sulla testa di 62.000 lavoratori si abbatta una mannaia da parte dello Stato, da parte del Governo. Renzi dice che bisogna tutelare il lavoro e i lavoratori. Con questo accordo c'è la netta impressione che il Governo tuteli le banche e la grande finanza a scapito di lavoro, lavoratori e territori. I lavoratori e il lavoro come merce di scambio sull'altare della grande finanza. Lavoro e i lavoratori come merce di baratto. Lavoro e i lavoratori svenduti sull'altare della grande finanza. Questo è il rischio di questo accordo. Questo accordo fatto da tecnici e noi vogliamo che in questo accordo i territori e i lavoratori possano essere informati e coinvolti. Accordo che rappresenta, ripeto, un grande danno alla più grande industria economica della Lombardia. Parliamo di 62.000 lavoratori che rischiano di essere penalizzati da un punto di vista fiscale e che potrebbero rischiare anche di perdere il lavoro. Noi abbiamo presentato queste mozioni, noi prima di altre forze politiche, proprio per impegnare il Governo, per chiedere al Governo chiarezza e garanzie. Vedremo se il Governo, la sinistra, Renzi, chi si occuperà di questo tema riuscirà a dare le sufficienti garanzie a questi lavoratori. I dati dicono che su ogni lavoratore potrebbe abbattersi una mannaia di 3.000 euro di tasse in più, 200 milioni di tasse in più sulla pelle dei lavoratori frontalieri. Questi sono dati che arrivano direttamente da alcuni sindacati di sinistra che sono preoccupati, come noi, degli effetti devastanti che questo accordo potrà avere su lavoratori, territori, comuni e sindaci di frontiera, il Governo e il Presidente del Consiglio battano un colpo se realmente hanno a cuore la sorte dei lavoratori. Noi abbiamo seri dubbi e grandi perplessità che ciò possa accadere. Sui territori c'è grande preoccupazione, sui territori c'è grande incertezza. noi chiediamo chiarezza e tutela per questi lavoratori che rappresentano una ricchezza, un patrimonio, una risorsa inestimabile e fondamentale per il Paese e per alcune zone del Paese in modo particolare, tra cui la Lombardia. Grazie. Aggiungo qualche elemento, a quanto detto in maniera assolutamente competente e soprattutto puntuale da parte dei colleghi. Noi in danni di Governo mai ci siamo, mai abbiamo permesso, mai ci siamo messi a rivedere gli accordi del 74 in maniera che andassero a modificare quello che è un equilibrio... Prima c'erano gli Svizzeri dall'altra parte, c'era una Lega dall'altra parte. Ma il problema qui è il Governo italiano che cosa fa con gli italiani. Questo è quello che sta accadendo e quello che noi denunciamo è che in questo momento Renzi ha svenduto i frontalieri italiani per il rientro dei capitali. Punto. Preciso, netto. Non si capisce come mai altrimenti gli accordi firmati, siglati, portati avanti da Vieri Ceriani, che ricordiamolo, a chi oggi fa comodo far passare per tecnico, Vieri Ceriani nasce come sottosegretario del Governo Monti, travasa nel Governo Letta e arriva fino al Governo Renzi. C'è continuità fin da allora ad arrivare fino ad oggi. È un braccio armato, questo è un braccio armato che protegge la finanza e che scambia i territori, i lavoratori dai territori, per gli interessi della finanza. In Commissione Affari Esteri, il 19 del mese di gennaio, veniva richiesto l'accordo, agli stessi relatori di maggioranza viene negata di poter eleggere l'accordo. Allora diciamo una cosa molto semplice ai frontalieri, noi siamo qui come sempre a difenderli. Li difenderemo, lo facciamo sul territorio, lo faremo in Parlamento, lo stiamo facendo con le mozioni. E le mozioni che abbiamo presentato richiedono una cosa molto semplice. impegna il Governo a garantire che il nuovo sistema fiscale, una volta regime, comporti per i lavoratori italiani e i frontalieri, in Svizzera una tassazione simile a quella previgente rinnovo della Convenzione. Netto, pulito, senza altre parole. Mozioni contro mozioni di altri che si aggiungono, sottoscrivano questa. Impegnano il Governo a fare in modo che i nostri frontalieri non abbiano differente tassazione. I territori che viviamo, i territori di confine, sono territori che hanno una difficile situazione economica. Ci sono progetti come il Copernico che portano le imprese svizzere ad andare dall'Italia alla Svizzera a lavorare perché in Italia non trovano più un sistema fiscale nel quale poter lavorare. Dopodiché i lavoratori sono costretti a spostarsi in Svizzera ma senza più neanche quel paracadute dato da una fiscalità di compensazione come ad oggi era garantito. A fronte di questo, ripeto, noi diamo valoce e parole e soprattutto rappresentanza. Ho qui le richieste di audizione che verranno presentate in commissione da parte dei rappresentanti dei frontalieri. Gli stiamo dando voce e continueremo a farlo perché non possono essere svenduti per interessi finanziari. Il Governo Renzi non protegge il territorio di confine. Il Governo Renzi scambia il territorio di confine per proteggere gli interessi delle banche. Grazie. La battuta è che ancora una volta il Governo Renzi aumenta di fatto le tasse, ancora una volta il Governo Renzi aiuta di fatto le banche e ancora una volta il Governo Renzi aiuta le banche facendo pagare questo a lavoratori e a comuni che danno i servizi ai cittadini. Come Lega Lombarda ovviamente lanciamo una campagna di comunicazione perché 3.000 euro di imposizione fiscale in più a lavoratore sono una cifra particolarmente pesante e di conseguenza è giusto che i frontalieri sappiano di chi è la responsabilità politica di questa scelta e con chi prendersi a cominciare dalle prossime elezioni amministrative. Sì, se è possibile fare una domanda. Radio Radicale. Volevo chiedervi questo. Voi avete detto che Renzi ha scambiato l'accordo sulle doppie imposizioni con il rientro dei capitali. Allora, che convenienza avrebbe avuto la Confederazione Elvedica a fare un accordo per il rientro dei capitali e ottenere questi vantaggi per i trasfrontalieri? E poi volevo sapere su che tipo di reddito arriva questa imposizione. Cioè, volevo sapere qual è il guadagno medio di un trasfrontaliero che lavora in Svizzera rispetto ai 3.000 euro che gli vengono tolti come imposizione fiscale e soprattutto se è possibile, non avviene mai per i trattati internazionali, riuscire a cambiare l'accordo sulle doppie imposizioni? Innanzitutto sulla prima domanda che faceva la questione sta in questi termini l'ha fatto un po' di confusione No, no, io perché avevo sentito che qualcuno di voi aveva fatto un paragone tra, diciamo, il rientro dei capitali e questo tipo di accordo E la faccio breve C'era un problema fra il nostro paese e la Confederazione Elvedica Il fatto che eravamo restati l'unico paese a tenere ancora la Confederazione Elvedica nelle black list con le sue banche Dopo che la Svizzera aveva fatto tutti gli accordi ad esempio con gli Stati Uniti con tutto il problema che forse avrà seguito c'era stato un grosso problema, no? Ecco E noi, c'era questo accordo da sistemare ed è stato sistemato perché gli svizzeri chiedevano questo e noi dall'altra parte giustamente chiedevamo il fatto che l'emersione di tutto questo denaro tenuto nelle banche illegalmente dalle banche Elvedica diciamo pure così facendo quello che è stato fatto L'accordo adesso non stiamo a parlare nel particolare dell'accordo quando è stato sottoscritto i due ministri Paduan e la ministra Svizzera hanno sottoscritto anche una road map con la quale avevano scritto in linea generica oltre a questo accordo cosa doveva essere trattato e su questa road map è stato scritto da parte dei ministri quello che doveva essere l'accordo sui frontalieri cioè come diceva giustamente i miei colleghi prima la merce di scambio è stata la questione dei frontalieri perché? L'accordo del 74 fatto dal nostro paese è stato un accordo fatto da fuoriclasse della politica perché? Era l'unico accordo fatto dalla Confederazione Elvedica che prevedeva ristorni esattamente il doppio rispetto agli altri paesi confinanti con la Confederazione Elvedica cioè francesi tedeschi e austriaci il perché chi è appassionato come me di archeologia politica forse si ricorderà a fine degli anni 60 inizio degli anni 70 nella Confederazione Elvedica il problema che ci fu con James Wazenbach le allora iniziative e forse questa è stata una risposta a livello internazionale da parte del nostro paese della Confederazione Elvedica su questo problema che chiamiamolo problema di questi due referendum fatti uno nel 65 e uno nel 72 nella Confederazione per tutti i lavoratori stranieri allora quello che noi diciamo forse anzi era giusto fare questo accordo a livello internazionale ma la merce di scambio non doveva essere questa in modo particolare l'accordo del 74 quello che domanda su quanto i lavoratori guadagnano beh dipende sempre che genere di lavoratori no allora il lavoratore frontaliere è soggetto purtroppo ahimè per loro al cambio della valuta no franco svizzero con l'euro perché in Svizzera utilizzano ancora la loro moneta beati loro il franco svizzero che però è soggetto alle politiche monetari anche della Confederazione Elvedica che per chi è attento osservatore sa che la Banca Nazionale Svizzera ha deciso di non mantenere più il cambio in una certa maniera ma l'anno scorso ha fatto altre scelte e probabilmente i frontalieri hanno avuto in un certo momento un favore poi dopo insomma è fluttuante questa cosa qui noi abbiamo non solo operai ad esempio nel campo dell'edilizia ma oggi abbiamo anche in tante banche svizzere lavorano dei nostri dei nostri lavoratori come ad esempio in campo medico no lavorano tanti 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 nostri da infermieri a medici no lavorano tanti tanti con cittadini italiani come diceva giustamente Nicola Molteni una delle più grandi aziende che abbiamo in Lombardia si chiama Canton Ticino ed è nostro interesse che questa azienda che occupa più di 60.000 persone continui nella sua performance che ha in questi anni deve funzionare perché è un bel in questo momento di crisi e di congiuntura che ha colpito pesantemente anche la no la Lombardia questa 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 cassa di lavoro che è la il Canton Ticino è importante ricordo che siamo passati da circa 32.000 31.500 lavoratori frontalieri alla fine degli anni 90 oggi siamo oltre 62.000 e questo cara grazia avere il Canton Ticino ecco questo è il nostro ragionamento tra e questo è il nostro ragionamento